benissimo mi dovreste sentire bene ok scusate l'attesa scusate l'assenza più che altro si ritorna con un estate al mame per farmi perdonare un gioco un po' particolare vedete ho riesumato il mio vecchio arcade stick che è il mei flash solito voi direte ma scusa non era una stagione all'insegna della light gun sì perché ho trovato questo gioco che non conoscevo di la verità anche se ho delle riminescenze che usiamo tutto tutte e due contemporaneamente adesso vi faccio vedere gun buster la scomodità fatta gioco non è vero è interessante che non c'entra niente con il cartone animato punta al top gun buster perché se voi fate così ho trovato il bezel e il bezel ti mette il robot di gun buster punta al top che non c'entra niente in teoria io ho letto che in teoria non dovrebbe succedere non dovrebbe centrare niente infatti lo togliamo perché unofficial quindi come funziona questo gioco si può giocare fino a in quattro noi giocheremo la versione single player la campagna come si chiamano adesso quindi l'arcade mode mission mode attraverseremo 13 stage dove affronteremo questi boss utilizzeremo il il control stick per muoverci e la light gun per curvare e sparare un po come in verità non è un comando nuovissimo perché io l'ho rivisto mi ha dato molto le feels il feeling scusa il feedback di di red steel red steel red steel 2 per la wii niente di eccezionale oppure anche se voi giocate mi so the conduit sempre per la wii solo che anziché l'arcade stick avevate il pad no e quella e nell'altra mano avevate il wii mode quindi niente di eccezionale nel senso questo è un precursore sicuramente perché siamo del no nel 92 è roba incredibile quindi tanto che vi spiegavo volevo vedere un attimo la la lore di sta storia quindi sì diciamo che ci sono questi tipo degli snatcher quindi dei finti umani non so dei robot che si ribellano no perché non stavo leggendo io spero che voi abbiate letto quindi noi siamo i gun buster che siamo questa specie di judge the red della situation ok intanto metto la chat non so se qualcuno ok dashboard perfetto la peculiarità vedi io sentim cosa vuol dire che oltre la cooperativa intanto vado sulla chat gestione stream oltre che la cooperativa due giocatori come in questo come vedete adesso penso che però la manovra è c'era solo un giocatore vedi perché ci sono due mirini due mirini su uno stesso schermo c'è anche la modalità quattro players che è un 2v2 bellissimo un 2v2 con questi comandi scomodissimi non ne vedevo l'ora vabbè dai basta giochiamo quindi con su e giù ed io voglio questo con gli occhiali ma weapon spark andiamo avanti io ho messo la bomba qui perché il missile l'ho messo sul sulla tastiera perché non ho il doppio grilletto come il cabinato originale chiaramente I'm the middleman sorcerer already madonna si got ah no already ma perché c'era scritto comunque ci sono le mappette adesso per la primo livello è molto easy il gioco te lo fa te lo spiega pian piano ci sono dei tutorial long the way stage 1 siamo in uno spazio molto limitato vedi io sparo al tizio life meter of target life meter o player one che sarei io lui è il mio nemico e gli devo sparare esatto i proiettili possono essere colpiti come nei giochi che abbiamo visto la peculiarità a quando il display o con l'altro posso usare il colpo speciale e intanto posso anche muovermi capito e voi direte scomodissimo vabbè non proprio core uso la sinistra perché però penso che ci prendi mano vedi sparo ti dico è un po' come red still perché infatti ho detto sto feedback dove l'avevo già visto dov'è che si abbina un motion controller a un arcade stick o comunque a un thumb stick proprio sulla wii quindi la wii ha ripreso un po' questo concetto di gun buster adesso sto io adesso un po' l'ho testato il gioco il primo livello e siamo in questo ascensore e si parte molto cauti molto leggero comunque è una figata pensa a giocare in 4 a questo 2 contro 2 deve essere una figata poi immagino che è emulato molto bene quindi penso che la scomodità sia anche vabbè che io sto invertendo le mani perché io non sono mancino però se invertissi sarei usciamo da qua sarei anche più scomodo perfetto comunque è bello un po' questo finto 3d c'è chi lo paragonava al multiplayer di doom ho visto su wikipedia assurdo ottimo lavoro questo è il nostro prossimo lavoro edi la mappetta cambia stavolta c'è c'è uno da inseguire sulla motoretta che l'ho fatto prima il long play non dura niente dura una quindicina di minuti quindi per favore rimanete sintonizzati e magari quando lo carico su youtube in verità durerà di più vabbè vedi noi gli facciamo la fuga come si dice ah perché io ho capito perché prima sbagliavo perché io devo premere solo avanti ok questo prima ci avevo messo un pochetto però perché ci si confonde devo dire però molto carino questo adesso le mappe diventeranno un pochetto più complesse vedete adesso ci sono già due colonne vedo sto tutto storto aspetta sposto l'arcade stick ecco stavolta non si possono distruggere i proiettili perché sono quelli un po' più piccoli e quindi bisogna ok sono morto bisogna usare molto la gli scansamenti laterali un po' ma come? come si sconfiggeva è un doom giocato così sarebbe incredibile ma caspita perché mi devo ricordare che le curve si fanno con la pistola però vedi non è molto veloce sicuramente c'è un modo per velocizzarlo forse sul mame ma penso che la versione originale sia così eh no vabbè ci sono andato addosso proprio ah che gli è partito un braccio perché c'è una riminescenza da avere giocato ho giocato anche un multiplayer di questo tipo non lo so ops poi ho fatto fino al prossimo per testare il gioco comunque è emulato molto bene comunque la title c'era parecchie anche sparatutto così su rotaia perché anche operation io l'altro primo ho fatto questo invece facciamo questo che è più sembra oh che pappere guarda che mappa oi tutto a posto sono stato un po' via però adesso recuperiamo gli episodi ecco tutto bene tu? questo è un po' un clone del quello del primo livello questo è un gioco un po' particolare vedete che utilizzo l'arcade stick in combinazione questi sembrano i ragnetti di ghost in the shell vabbè questo è un immaginario cyberpunk di quel tempo un po' tipo anche bubblegum crisis no? ah c'ha lo scudo quindi mamma mia è scomodo come sembra è proprio chissà se sì anche io sto morendo i primi i primi episodi non li ho sofferti così tanto oggi sto sudando ma niente è proprio è proprio parte del format comunque sì non ho fatto io di solito contavo di farne questo quest'anno uno a settimana ma sono stato via a trovare dei miei amici fuori vabbè a Lussemburgo fuori Italia quindi dopo sono tornato e non ero proprio al top della forma ecco insomma però comunque non abbiamo rimasto molti episodi perché giochi belli a parte questa questo gioco un po' particolare con la pistola da settare bene tipo ce ne sarebbero parecchi belli però tipo alcuni non so perché non me la prende la light gun tipo quello di Jurassic Park che io ci giocavo spesso ci giocavo spesso in una sala giochi qua vicino tra l'altro ho sentito che grazie a una storia che un altro retro gamer no facciamo questo un altro retro gamer è qui nella mia città in vacanza e voleva vedere una sala giochi ma io gli ho scritto guarda nella sala giochi nostra non c'è un cavolo risparmiati la fatica di andarcelo allora a questo punto potevo invitarlo per un episodio qui no vabbè tanto sono un signor nessuno io ok ah c'è di nuovo il tizio di prima come nemico standard oddio comunque come dicevo prima questo gioco si poteva giocare si poteva giocare anche in multiplayer due contro due quindi chissà come sono visualizzati gli sprati ognuno sarà uno sprite diverso insomma e così quindi si diciamo siamo un po' agli sgoccioli adesso ne farò almeno altri tre episodi sicuramente compreso questo perché ce n'è uno che ho tenuto per il season finale che penso che è il primo gioco che io abbia mai giocato con la pistola e c'è anche per sala giochi chiaramente io ce l'ho per playstation 1 eccolo il boss intendi altri format io d'inverno faccio altri format se è questa la domanda ovviamente cioè ho cominciato questo progetto e lo voglio portare a termine certo lo farò finché finché vivrò no non lo so finché finché mi diverto e non diventa troppo un'esagerazione starci dietro ecco e adesso non è che voglio obbligare nessuno però tipo su youtube carico gli episodi indifferita sempre all'omonimo canale e lì ci sono le stagioni vecchie di estate al mame ho fatto October SNES dove abbiamo visto dei giochi dello SNES che quest'anno lo voglio riprendere bene che ho delle chicche da mostrare lo prendiamo sempre questo che dà più punti e volevo fare anche qualcosa di moderno in caso oppure qualcosa su PS1 PS2 horror adesso vedo perché ci sono un sacco di giochi fighi della PS2 horror con con quella qualità che mi gustava portarli di notte magari di inverno con calma madonna che casino sto livello poi c'è un tasto questo che blocca il gioco non so perché fa parte proprio della configurazione standard no me l'ha resettato non lo sapevo niente porca miseria cioè se te tieni premuto questo resetta eh sì ah questo più grilletto resetta allora perché l'hanno inventato vabbè facciamo veloce di fordon che popea via 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 vabbè tranquillo no questa non ci voleva o lo taglio quando lo carico però no perché ho detto cose importanti vabbè lo rifacciamo veloce e basta io non ho capito perché hanno messo tra la configurazione standard questo tasto che tu lo premi abbinato al grilletto ti resetta incredibile vabbè vabbè facciamo speedrun guarda lo stavo già ripremendo per sbaglio adesso dopo lo tolgo io già sto diventato un po' più pratico però anche nel primo livello ti muovi poco giusto è un tutorial mi dispiace mi dispiace che si sono si sono bloccate alcune animazioni ah vabbè tanto l'abbiamo visto prima perché quando qualcuno si scrive ho messo che appariva una cosetta però vabbè non importa l'ho fatta io in pixel art cioè ok questo lo dobbiamo inseguire perfetto questo è quello di prima vabbè comunque dai facciamo veloce non ne avevamo fatte così tanti questo è quello che non si potevano distruggere le cose ma io lo tenco lo tanco per far prima cioè guarda è già morto e che ti volevo dire non so cosa ti piacerebbe vedere in senso c'è un gioco di una console retro non so dello SNES ah ok giusto bella domanda l'ho letto prima perché questo è un gioco che ho scoperto ho sbagliato volevo cliccare quell'altro vabbè almeno vediamo un nuovo personaggio è molto semplice praticamente ci sono questi androidi quindi tu sei una specie di poliziotto o da squadra che si chiama gunbuster e li vai a eliminare come se fossero tipo dei cyborg ribelli un po' un po' stile cioè nell'ambientazione un po' cyberpunk che ricorda anche un po' ghost in the shell con questi ragnetti della polizia insomma e quel tizio di prima ci dà le missioni perché gunbuster c'è un un omonimo anime che poi dovrei rivedere perché l'ho visto quando ero piccolo e non l'ho sicuramente non l'ho apprezzato abbastanza che si chiama punta al top gunbuster no e infatti qua non c'entra niente in teoria con questo però sai che io di solito metto gli artwork intorno al gioco no e ce n'è uno non ufficiale dove c'è il robot di gunbuster ma non c'entra niente sinceramente però mi ha fatto ridere sta cosa vabbè anche perché sia su su wikipedia che nel filmato iniziale non è che spiega molto cioè siamo sti tizi che assomigliano molto a robocop questi gunbuster sì ghost in the shell penso che è una delle mie opere preferite di sempre e per sempre poi non ho visto quelle nuove in 3d vedi questo tizio ci dà le missioni un immaginario oh ma no facciamo il ragnone le mappette cambiano come avrei potuto notare distant weapon in sector quindi ci attacca da lontano e di niente io quel che so ve lo dico ostia bello questo vabbè anche questo lo posso distruggere il braccio sì poi sarei curioso di usare di vedere il multiplayer ma non penso che con l'emulatore sia possibile madonna ma questa mappa è incredibile vada mi sta trascinando via quel braccio ecco appunto basta ok no sta mappa è complessa cioè giocarci bene è impossibile penso dai 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 a posto tu che combini di bello sei in una città marittima come la mia o no infatti qua si muore proprio dal caldo esatto questo è figo perché ah facciamo questi doppi il gameplay infatti è particolare appunto l'ho visto ieri che potevi mescolare appunto l'arcade stick che ho ritirato fuori perché nelle altre stagioni io ho usato sempre questo perché la novità di quest'anno è che ho la pistola invece questo mixa entrambe le cose ed è un po' un gameplay che io mi ricorda molto ah qua c'è la doppia vita addirittura sono due gemelli pensavo fossero uniti mi ricorda molto un gameplay come dicevo non so se eri già arrivato dei giochi della Wii ci sono alcuni giochi della Wii che giocavano così che da un con un tasto comandi avanti avanti indietro e i scansamenti laterali come li chiamiamamo noi da piccoli scansamenti laterali e l'altro la pistola funge dal right thumbstick cioè dalla levetta destra quindi quella che di solito è adibita al guardare intorno no? ma guarda una volta ce n'erano di chicchette c'è un gioco che mi piaceva portare con la pistola ma l'umidità eh lo so eh lo so in quelle un po' più chiuse un po' più caldo io c'ho il mare ma è comunque comunque caldo invece a Lussemburgo era un po' cioè mettevo la felpa incredibile infatti appena abbiamo svalicato c'evo la felpa c'evo un un caldo della miseria e gli dicevo che alcuni giochi della Wii avevano più o meno questa funzione tipo Red Steel Red Steel 2 The Conduit The Conduit non c'ho mai giocato ma mi pare si giocasse in questa maniera o anche Resident Evil 4 Wii Edition che forse è uno dei porting più carini di quella volta adesso c'è l'HD remake vabbè l'HD la remake non è da considerarsi però bello abbiamo visto livelli diversi almeno poi vedi è fluido emulato bene io ho attivato il solito oh il boss il solito riquadro bianco per per la pistola ma voi non lo dovreste vedere non sto leggendo la storia guarda è troppo caldo l'importante è che voi la leggiate non so cosa mi sta dicendo si è una fabbrica di robot sti cavoli vabbè gli ultimi livelli siamo o forse l'ultimo è solo che abbiamo fatto delle scelte non lo so forse questo è letteralmente l'ultro forse erano 13 contando le varianti questo è un macello si si grazie della conferma perché sarebbe proprio brutto per voi invece mi taglia un po' lo schermo ma pare sia obbligatorio per orca miseria stavo per schiacciare il pulsante che non devo schiacciare ok ok uno distrutto l'altro dove ma io provo a scansarmi ma è un macello cioè devo questo infatti ho letto brevemente dovrebbe essere la fabbrica dove questi robots perché mi sembra un po' bubblegum crisis che è questo cartone che ho visto che di pochi episodi tipo sono degli orvi da 40 minuti l'uno che c'è sempre questo immaginario no che questi robot si nascondono tra noi no tipo gli snatcher o loro come si chiamavano i boomer su bubblegum crisis bellissimo super consiglia consigliato tra l'altro soundtack non so se è emulato male vedi che quelle colonne sono un po' messe male che pippa ah però mi sa ok che noi siamo dei tizi che fluttuano perché se ci fosse il multiplayer se si potesse vedere il multiplayer ok perché sono all'inizio del gioco li fa vedere come sono fatti sono dei tizi che come quelli che abbiamo sconfitto prima dei tizi che fluttuano non in piedi ma un po' chinati eh ci sono quelle colonne lì che però secondo me non so previste è proprio forse non lo emula al top però vabbè insomma l'importante è che è giocabile cioè io mi sto abbastanza divertendo se non fosse che in verità se non dovessi fare cioè non che non mi diverta a streammare anzi mi piace molto anche con gli starei giocando in mutande a Yakuza 3 quindi no in realtà oggi devo finire un lavoretto ok perfetto sì sì secondo me oddio è skip in 3d second dove devo fuggire oh ma ah no qua c'è una ah perché lì ci sarebbero delle colonne allora giriamo veloci qui eh perfetto mamma mia panico però bello che anche sta cosa che sarebbe bello un gioco così che anziché solo boss che solo boss c'è un livello effettivo da trovare come Doom insomma che devi trovare le chiavi e questo cos'è no il mother brain finale eh sì per forza io d'estate se devo videogiocare ieri sera giocavo Resident Evil 7 che ci gioco la notte e con le finestre tutte aperte cioè giocare in mutande d'estate a Yordle troppo bello freschino quindi questo dovrebbe essere enormous brain behind all come al solito e dobbiamo sì infatti ecco ma lui si muove no ti manda gli sgherri ok si può continuare spero ok figa sta musichetta ma gli sto facendo ah ok laser devo stare fermo un po' così perfetto questi è la stessa mossa che ho io tipo lo shotgun ho scoperto perché non vedo la vita perché la mia vita è coperta parzialmente dal potremmo fa un menu più chiaro per il giocatore perché vabbè che è parzialmente coperta da dal mio famoso riquadro bianco così si dovrebbe giocare che tu fai gli scansamenti laterali gli giri un po' intorno ah ma lui si muove o io che mi sono incastrato non so mi sono incastrato forse si sembra effettivamente si vedi mi fa prima no forse incredibile no sta girando perché ho tolto la pistola non era un effetto non mi dire che devo fuggire no questo sta facendo lui si ecco lì penso che nel multiplayer tu vedi quello sprite lì se sei contro questa città poi con questo edificio con questa forma sempre un po' Blade Runner vabbè che ha ispirato un sacco di roba però sembra più l'edificio di Bubble Gun Crisis addirittura ah beh lui invece ho preso il personaggio che dopo si va a fare la vacanzina quindi ci saranno quattro finali diversi con i quattro pg ok ok metto appoggio la pistola e guardiamo un attimino cosa succede comunque della Taito si dai curioso nel senso che lascia il tempo che trova ovviamente avendolo a casa non penso ci rigiocherò mai più se non con due pistole sarebbe bello provarlo che che in teoria ogni due ogni due giocatori c'è un solo movimento un solo stick perché se no era un macello secondo me o forse solo nella cooperativa c'è un solo stick e nel quattro contro nel quattro due contro due ognuno c'è la c'è quello proprio non lo so mi sembra difficile no mi piace vedere anche questi video magari fa vedere qualcosa di più sulla storia perché non è che si è visto molto ecco e i prossimi giochi non lo so volevo portare Operation Wolf che è un grande classico ma se io non lo riesco a finire non lo porto perché se muori a metà livello devi ricominciarlo da capo anche se ho messo easy con mille robe non ce la faccio a dire la verità ce n'è un altro sì con un'ambientazione simile ma su rotaia mi sa che porteremo quello cioè steel gunner e poi se trovo qualche altra chicchetta mi piacerebbe portare quello di Alien o quello di Jurassic Park però perché non è compatibile la light gunner io in verità lo so cioè forse ci sarà un modo però sono di quelli che in sala giochi hanno la pistola attaccata vabbè anche questa in verità ce l'ha attaccata però ha una configurazione diversa perché è il fatto che il mirino torna al centro e quindi non so perché la light gun non viene considerato un gioco con la light gun come si come si fa no ok 35 minuti è durato ho visto i long play di solito durava 15 minuti 20 quando l'ho visto dagli altri che l'hanno portato ok questo era gunbuster sì infatti ogni volta poi devi sparare con l'ansia del time ed eccoci qua oh grazie per la compagnia hollow e ci vediamo la prossima se vorrai e grazie per chi c'è per chi c'è stato e per chi ci sarà ci vediamo sì l'estate prossima la settimana prossima che in teoria si riprende bene che dovrei rimanere nei dintorni poi verso agosto si spezzetterà un po' di più farò forse uno massimo due episodi ad agosto poi basta perché con la light gun non c'è granché e cosa grazie a te e ci vediamo alla prossima e stacco qua aspetta devo togliere sto box se non vedo niente perfetto ciao ciao oh ce la facciamo ecco qua buon ciao a tutti